Bentornato su Gossip in the News. Io ho un'oretta che vi sto seguendo. Prima c'è stato un interessante teatré con Padellaro e Laprile con l'insulto libero a Salvini. Dopo tutti a pendere dalle labbra di Bersani, ma con tutti i giornalisti abilissimi che avete in redazione. Quando lui si scandalizzava per le cose che succedono a Genova prima di qualsiasi rinvio a giudizio o similari. Ma qualcuno che gli dicesse, scusi Bersani, ma lei 98 mila euro che prese da Riva già condannato, più i 110 mila euro della Federacciai, sempre per la stessa maniera, lei che cosa faceva? Le ha rimandati indietro perché pensa che siano delle cose che sono così parte di questa politica fatta brutta brutta, come dice lì, oppure no? Non so, perché a me sembra che ci sono quelli del PD a cui ci si mette in ginocchio a sentire che cosa dicono come se fossero i giornalisti. Il PD all'opposizione perché ne ha fatte più di Bertoldo, il Monte dei Paschi a Siena sono 50 miliardi ed era la fonte di potere e di pagamento del Partito Democratico a tutta Italia e ne hanno bruciati 50 miliardi di soldi pubblici. Ecco, sentire le elezioni da Bersani in audita altera parte, forse no, sentire gli insulti a Salvini sapendo che io dovevo arrivare come ospite, non mi sembra una grande idea. Allora, intanto Borghi... Siamo la Lega, parliamo di adesso.